È un piano molto importante che distribuisce oltre 300 milioni di euro ad imprese e comunità rurali della nostra regione che hanno bisogno di svilupparsi. Sviluppare le comunità rurali, sviluppare il turismo, sviluppare l'agroalimentare, sviluppare l'agriturismo è una delle linee principali della nostra amministrazione. Questo denaro in arrivo dall'Europa servirà molto e potrà essere moltiplicato utilizzandolo come garanzia dei finanziamenti della Banca Europea per gli investimenti. Abbiamo atteso molto questo piano, bloccato da lungaggini burocratiche di vario tipo. Oggi grazie al lavoro anche della Commissione del Parlamento Europeo, grazie all'amico Alberto Cilio che li siede, grazie all'amico Ogan, il commissario dell'agricoltura del Partito Popolare Europeo, siamo riusciti a sbloccare questi soldi. Io credo che già nel prossimo mese di novembre i primi bandi verranno pubblicati e quindi imprese e amministrazioni potranno agevolarsi di questo denaro. La priorità per la Liguria è lo sviluppo, quindi creare occupazione, finanziare nuove imprese dei giovani, tenere in sicurezza il territorio perché creare imprese agricole nell'entroterra vuol dire anche mettere in sicurezza un territorio che come si sa è molto fragile. La tecnologia, sviluppo di prodotto e sviluppo di processo. Queste sono le nostre priorità e io credo che già nei 12 mesi che verranno questi soldi potranno essere molto utili per creare occupazione, sviluppo e ricchezza nella regione.